La prima aggressione laziale Brillantemente i pessimisti, parate su parate Eccone una serie, neutralizzato il siluro di Penzo Mandato all'aria lo spiovente di Puccinelli E adesso è pronto a tuffarsi per bloccare la sventola di Mears Primo gol della Juve, Muccinelli a Martino Furiasi è superato, sentimenti evitato Martino corregge l'angolazione E' inutile protestare, non era fuori gioco Viola, seconda serie, deviato il volo di Di Remondini Stupendo volo su calcio d'angolo Secondo tempo, funga di Puccinelli Per pochi centimetri, ah che disdetta Ce la fa invece Niers, promotore e autore del pareggio Attenzione Puccinelli Flamini Penzo Cilecca di Bertuccelli Niers Gol! Meno di 5 minuti e la Juve è nuovamente in vantaggio Puccinelli Hansen Secondo guaio per sentimenti La Lazio torna alla carica ma in rete non resta che Niers Rimando lungo di Viola Presto Paravolo Finita Ma 3 a 1 è stato un po' forte Grazie a tutti Grazie a tutti